Ciao ragazze e benvenute a questo mio nuovo video Allora innanzitutto volevo ringraziare Rosemary Bijou per questa collana e questo bracciale e poi a iniziare il video insomma mi ha mandato un pacchettino con alcuni prodotti e vi dimostro subito, sono tre prodottini Allora partiamo subito da questo rossetto che è l'Ultra Color Indulgence Allora è una colorazione che a me piace tantissimo tra l'altro io stra adoro questi colori qua questo qua è un rosso molto acceso, mi sembrerebbe un bel rosso deciso e non vedo l'ora di provarlo perché le mie colorazioni sono almeno il rosso o il buzia quindi non vedo l'ora veramente di vedere com'è sembrerebbe proprio un bello opaco che comunque sono due colori che piacciono tanto a me poi mi ha mandato questo mascara che è Super Extend Wind Out anche questo qua non l'ho mai provato tra l'altro io non ho mai utilizzato non ho mai provato mascara di Avon e sono molto particolare con i mascara molto selettiva perché è veramente che se un mascara non mi piace non c'è storia lo lascio là quindi sono veramente ultra ultra curiosa e voglio assolutamente provarlo non vedo l'ora e poi per finire mi hanno mandato questa matita eyeliner che è la Glimmer Stick Diamond anche questa qua c'è una colorazione che è bellissima mi piace moltissimo questo blu è particolare molto molto acceso e sono proprio le colorazioni che io stra stra adoro quindi non vedo l'ora di utilizzare tutti questi tre prodotti qua e vedere un attimino come mi ci trovo dopo vi farò sicuramente sapere come mi ci sono trovata e cosa ne penso allora io per adesso ho finito ci vediamo lunedì con un nuovo video ciao